Presentazione ufficiale della Dinamo Banco di Sardegna 2017-2018. Nella splendida cornice e le tenute Selle Mosca d'Alghiero abbiamo incontrato il Presidente della Lega Basket, Egidio Bianchi, col quale abbiamo parlato del nuovo corso del basket in Italia. Secondo me il campionato è cresciuto dal punto di vista dei valori in maniera importante. Il fatto che ci siano otto squadre che faranno le scoppe europee ha dato uno stimolo importante anche nella costruzione dei roster. Credo che sia un campionato che appunto si presenta veramente interessante perché non ha un padrone in assoluto o sicuramente Milano come al solito per il fatto che fa l'Eurolega ha un roster veramente importante però anche le altre sono allo stesso livello. Avere la Virtus in Serie A era importante anche dal punto di vista di recupero della piazza come diceva una basket city fondamentale per il movimento. La cosa importante che vedo è che si è presentata subito con un roster importante quindi devo dire che sarà un bellissimo ritorno. Spero che ovviamente anche il pubblico di Bologna sia quello che ci aspettiamo. Credo che sarà un campionato ancora di più interessante. Il campionato italiano era atteso a un recupero di credibilità a livello europeo e credo che in questo momento abbiamo la possibilità per arrivare ai migliori successi anche in quel campo. Sicuramente ci sono tutta una serie di possibilità che le coppe ci aprono anche in termini di presenza della Lega e del movimento italiano a livello internazionale. Dobbiamo recuperare in maniera importante però secondo me siamo sulla strada giusta quindi presto ci rivedremo sicuramente anche ai massimi livelli anche in Europa.